La città di Arezzo diventa per otto giorni la capitale della danza. Dal 22 al 29 luglio è infatti in programma l'undicesima edizione del Campus Internazionale in Danza e in Arte. Un'occasione di formazione per danzatori e danzatrici di tutta la penisola attraverso un intenso calendario di lezioni, audizioni, seminari e spettacoli. Avremo quest'anno delle novità tra cui questa bellissima sala vasariana che ci ospiterà nelle lezioni del corso avanzato quindi per tutte le danze accademiche e posso dire con molto entusiasmo che quest'anno abbiamo chiuso le iscrizioni in anticipo per un sold out che ci consente di lavorare adesso in maniera tranquilla per la programmazione di tutta la settimana che ospiterà tutti i ragazzi che arrivano da diverse regioni d'Italia. L'evento fa affidamento sul sostegno della Fondazione Arezzo in Tour e della Fondazione Guido d'Arezzo oltre al patrocinio del Comune Aretino. Secondo i nostri parametri merita di essere sostenuta. È una manifestazione che porterà ad Arezzo un centinaio di persone che vengono da tutta Italia e che quindi oltre a fare quello che vengono a fare, quindi a imparare la danza nelle sue varie forme avranno modo di visitare la città che è quello che poi alla Fondazione Arezzo in Tour interessa particolarmente. Quindi è uno strumento di divulgazione, di promozione della città che noi sosteniamo ben volentieri.